Rancicchio Group SBA è un'azienda italiana che è stata prodotta dal mio nonno nel 1927, da quasi ormai 90 anni. Si localizza sulla costruzione di macchine che perfette di personale. Abbiamo una grossa introdizione in questa pubblicazione metafricanica. In realtà poi nel 2008, quindi sette anni fa abbiamo acquisito un'azienda sbuffera che è la Egro. Invece, sempre al campo delle macchine per caffè, offre un tipo di tecnologia un po' alternativa che è più automatica e quindi è possibile allargare il nostro portone. L'azienda italiana che però è stata prodotta all'expo e per quanto riguarda il marchio Egro, abbiamo lavorato benissimo sulla interfaccia utente che praticamente può decidere se stesso quale interfaccia smettere. è così. Grazie a tutti. Grazie a tutti.